Buonasera, oggi Radio Mast del Network Radio 20.0 è in Villa Burba, a Rho, con Alessandro Boscardin di Lule. Buonasera. Buonasera e grazie di avermi invitato. Allora, diamo qualche nozione come mai siamo qua. Lo lascio dire a te come mai siamo qua oggi. Allora, questo weekend mettiamo in scena a Rho, Nobody, la nostra installazione teatrale sul fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale. È un'iniziativa di sensibilizzazione sostenuta dall'Ule all'interno del progetto Mettiamo le ali e cofinanziata dall'8x1000 della Chiesa Valdese. Nobody è quindi un'attività di sensibilizzazione prodotta dall'Ule e da compagnia teatrale Favola Folle. Perfetto, partiamo subito da una prima domanda. Quanto tempo e quante risorse è costato questa installazione di oggi? Allora, Nobody è un progetto che arriva da lontano. Abbiamo lanciato nel 2018 un bando creativo per cercare delle realtà che proponessero delle iniziative di sensibilizzazione diverse dal solito. Abbiamo incontrato diverse compagnie teatrali, agenzie di comunicazione e promozione e tra tutte abbiamo scelto il progetto proposto da Favola Folle. Dopo una fase di progettazione realizzata insieme, dove il regista, gli operatori di Favola Folle, anche gli attori, sono venuti presso la nostra sede, hanno parlato con i nostri operatori, hanno intervistato alcune delle donne che ospitiamo in comunità e sono addirittura uscite sulla strada a incontrare le donne prostituite sui territori. Hanno poi composta la dramaturgia di Nobody, che è andata in scena la prima volta nel novembre del 2018 a Bergamo. Da lì un lungo percorso che ha visitato più di dieci città in Lombardia, tutti i capologhi di provincia, Mantova, Brescia, Bergamo, Pavia, con due date molto importanti a Milano, Fabrica del Vapore e PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Siamo in questo 2021 al termine del tour invernale, dopo Magenta siamo qua a Punto Arò, a breve settimana prossima saremo a Bucinasco e poi a Gaggiano per concludere questa annata di rappresentazione di Nobadi. Bene, quanto lavoro ha dietro Lule? Perché abbiamo ascoltato, abbiamo visto l'interpretazione, abbiamo parlato poi direttamente con voi e appunto volevo porti questa domanda, quanto lavoro c'è dietro a Lule e quanto Lule può aiutare queste persone? Allora, Lule è impegnata da 25 anni a sostegno delle persone, soprattutto donne, minori, vittime di tratto e sfruttamento. Questo è la nostra attività storica, lo facciamo seguendo tutti gli aspetti di questo fenomeno, quindi dalla strada dove sono impegnate le nostre unità che contattano le donne per offrire loro anche solo ascolto, un conforto, una tazza di tè caldo o accompagnamento e visite sanitarie per poi sostenere le donne che scelgono liberamente di provare a emanciparsi e quindi vengono poi accolte nelle comunità di accoglienza dove si sviluppano dei lunghi percorsi che anche dopo due o tre anni le portano a un reinserimento sociale e lavorativo. Questo è tutto il lavoro che noi facciamo per queste donne che hanno subito una delle violenze peggiori che si possa immaginare lo diciamo oggi a ridosso del 25 novembre, la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne quella di essere state prima trattate, quindi trafficate come merce dai paesi dell'Africa o dell'Est Europa e poi essere vendute qua in Italia come appunto prostitute alla merce di clienti con esperienze degradanti che possono spezzare la psiche anche delle persone più forti. Ecco parlando di paesi mi è venuta a mente una domanda, quanti sono i numeri della prostituzione in Italia e le varie percentuali? Allora si parla in Italia di 70.000 persone prostituite, io uso sempre il verbo in questa declinazione cioè come persone che subiscono l'atto della prostituzione, sono numeri difficili da censire con esattezza perché parliamo di donne che si prostituiscono, sono prostituite in strada ma poi c'è tutto il sommerso degli appartamenti la prostituzione si è spostata tanto come si suol dire indoor ovvero in appartamento e poi c'è tutto il mondo dei night lab, dei centri massaggi quindi un fenomeno come dicevo difficile da censire nei suoi numeri esatti ma di cui poi abbiamo tutti sott'occhio le dimensioni appunto dalle persone e dalle donne che vediamo lungo i bordi della strada, i centri massaggi che sono nati negli ultimi anni come funghi per rispondere chiaramente a un bisogno che è diverso da quello esposto in vetrina. Ecco noi facciamo una piccola anticipazione a chi magari verrà a vedere No Body a Bucinasco oppure nei prossimi giorni lasciate all'inizio bisogna prendere un pezzo di asfalto che significato ha questo pezzo di asfalto? Allora è una scelta provocatoria del regista ci sono due colonne, una per gli uomini e una per le donne e ci sono dei blocchetti d'asfalto sotto la voce sì, sotto la voce no quindi la domanda è questa per gli uomini sei mai stato cliente di prostitute, sei mai andato a prostitute e quindi il pubblico deve prendere davanti alle altre persone il suo blocchetto e dichiararsi ecco, è come dire già un gesto provocatorio che ha anche una finalità artistica e drammaturgica perché cala subito lo spettatore in un ruolo attivo all'interno dell'installazione non può tirarsi indietro ma già da subito è ingaggiato a essere protagonista del percorso così come anche la domanda che viene fatta alle donne tu credi che un tuo congiunto, un tuo parente stretto sia stato cliente di prostituzione? anche questa è una domanda che mette subito all'interno del pubblico femminile un tarlo, un dubbio nella mente che poi seguirà per tutto lo sviluppo dell'installazione esatto, esatto, grazie per essere stato nostro ospite noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona fortuna per tutti i prossimi spettacoli a questo punto grazie mille a voi e grazie per il vostro lavoro grazie a te